Io sono arrivato in aeronautica perché mi faceva male un orecchio, altrimenti avrei voluto fare il sommergibilista, ma siccome d'estate andando sott'acqua mi era venuta questa mezza otite, avevo scelto l'aeronautica che è anche un po' il sogno di tutti e ho fatto la domanda e a un certo punto mi hanno preso, mi hanno chiamato, ho fatto la visita medica, sono tornato a casa e mi hanno richiamato e sono andato a Napoli con un amico che faceva il cameriere a Sorrento, infatti siamo andati a Sorrento e insomma ho finito tutti i soldi, da Coroglio all'ingresso dell'accademia, l'ho dovuto fare al piede perché c'erano i soldi, vabbè faccio gli esami, entriamo in questa palestra dove eravamo 100, non ricordo, 150, i primi 100 sono entrati, cominciano a leggere i nomi, quando è arrivato al quarantesimo mi sono incominciato a preoccupare, dico guarda che figure mi tocca fare, per torno a casa mi dovranno fare il foglio di via perché non c'è una linea per fare, invece mi pare intorno al 42, 44 mi hanno chiamato e siamo rimasti fino a Pasqua, non ci hanno mandato a casa, le prime vacanze le abbiamo fatte a Pasqua e noi siamo stati un gruppo particolarmente felice, il corso Sparviero perché ci hanno subito mandato a volare sul T6, dopo pochi giorni abbiamo fatto un po' di cose e ci hanno mandato sul T6, abbiamo fatto prima due voli con un macchino e poi abbiamo iniziato un po' di voli col T6, tanto che il nostro scelto Caltabbiano che poi è diventato pure generale, io gli passavo le missioni perché ero un paio di missioni avanti a lui e il mio istruttore che era un maresciallo esposito mi dava le cose e dice passela a Caltabbiano, la cosa lo disturbava un po' perché io ero un pinque e lui era aspirante e niente siamo stati in accademia, è stato bene, a me è mancato solo il sonno, andavo a dormire tra gli sciumangamani bagnati alla domenica così o quando c'era lì bruscita nella palestra, era l'unica cosa. Poi l'accademia per me è stata abbastanza semplice, avevo fatto un liceo scientifico veramente formativo per cui matematica, fisica, chimica, l'inglese teorico perché io come tutti gli italiani per parlare è stata una cosa un po' lunga. Abbiamo finito questa accademia e praticamente l'ultimo erano tre anni e mezzo diciamo, il quarto anno si faceva una parte teorica ancora in accademia e una parte si faceva a mendola e quando siamo andati dovevamo andare alla nuova accademia, quella che accadeva all'accademia di Pozzuoli, solo che non era pronta la camerata dove dovevamo andare noi, per cui ci hanno messo per un mese all'albergo Trieste, mi pare si chiamava, insomma un albergo vicino alla stazione di Napoli. Il nostro piano, non ti dico quello che è successo tra giochi di carte, era una cosa tremenda e lì ho deciso che non avrei mai giocato a poker perché si sono tolti i soldi che avevano messo da parte uno dall'altro. Finita questo piccolo semestre siamo andati a Mendola. A Mendola tutto il periodo del T6 per me è stato bellissimo, solo che il mio istruttore era uno che ci teneva molto e quindi dopo il secondo giro di vita dovevi rimettere se no... Tanto è vero che mi ricordo che all'epoca era tenente Bonuglia che voi conoscete sicuramente. Ogni tanto facevamo tre mesi di studio, poi un mese di volo così, mi è capitata una ripresa di volo, mi dice che vuoi fare? E io vi ho detto tutte le manovre sbagliate, perché? Perché io non le sbaglio mai? Abbiamo fatto una missione bellissima. Tra le altre cose facendo tutte queste manovre sbagliate, abbiamo fatto una scampanata che era proibita col T6, per cui è stata... Ecco lì si sono votate tutte le tasche, volo rovescio per raccogliere tutte le ricarte. E' finita l'addestramento sul T6 che era un aeroplano impegnativo devo dire, un aeroplano che aveva una grossa imbardata, il motore era pesante, insomma è stata una bella esperienza. Siamo andati a Mendola e a Mendola... Io ho fatto sto periodo di volo con un istruttore molto giovane, un sergente, che mi ha cullato proprio. C'è stato pure un brutto incidente, io ero in volo facendo un simulato con l'Aggi, che all'epoca era maggiore, quale nel momento di questo coso, di questo tutto, di questo traffico, di se usciamo dal circuito perché è brutto. In quel momento due aeroplani riattaccata, si sono toccati e un mio collega che stava in tendine quindi non ha visto niente, è morto. Io mi sono divertito, avendola mi sono divertito perché a me piacevano molto le formazioni e queste cose qui e le ho fatte tutte belle. C'era un po' di tigna. L'avevo fatte pure con un comandante del gruppo CIMS, si chiamava, maggiore CIMS sul T6, che mi portò in volo due o tre volte e facevamo delle belle formazioni e lui, siccome vedeva che non mi staccavo, insomma aveva spinto un po'. Quindi finita la... a Mendola si doveva andare a Vicenza, dove venivano assegnati i reparti. Io mi ero coordinato con tutti, con gli amici che volevano andare alla sesta e dico a me se mi danno la sesta e io voglio andare a Rimini, uno di voi che c'è a Rimini ci scambiamo, era possibile fare questi cambi. Invece stavo a casa, mi chiamano a presentarsi a pratica di mare. E perché? A quel punto io avevo rotto a mare, c'era un comandante di bella, pilota, no lui era tenente all'epoca, che era sposato con una mia sorella di latte, pensate, lui siciliano. E dice, no, no, sei stata assegnata al decimo gruppo, andiamo a... e mi ha accompagnato lui a pratica di mare. A pratica di mare gli aeroplani non c'erano più perché tutti e tre i gruppi erano stati trasferiti a Grosseto, il comando era ancora lì e lì ho fatto l'MTU e ho scoperto di essere stata assegnata al decimo gruppo, che dopo sei mesi doveva andare a Grazzanise su una base nuova. Vi dico la verità, dentro di me ho detto adesso do le dimissioni e me ne vado. Invece mi hanno messo, arrivata a Grosseto, mi hanno messo in mano al maresciallo Livrani che aveva appena finita la pattuglia e i primi 60 voli con l'F86E sono stati veramente una meraviglia, che poi l'86E con sto tettuccio a goccia ti sembra di avere le ali, perché tu stai fuori dall'aeroplano e quindi era bellissimo. Dopodiché siamo... a quel punto ho detto non me ne vado più dall'aeronautica. Siamo arrivati a Grazzanise e Grazzanise è stato un bel periodo, un bel periodo, periodo... eravamo diventati una famiglia proprio e l'abbiamo chiusa nel 68 in maniera un po' strana, perché avevamo fatto un raduno dove erano arrivati tutti e tutte le squadrie degli assi della seconda guerra mondiale, no dalla prima guerra mondiale, tedesco, francese, belga... e tornando il giorno dopo da questa da questa festa ci bloccano in aeroporto alle otto di sera dice da questo momento siete in valutazione, non avevamo mai fatto una valutazione, eravamo ancora assegnati... non eravamo assegnati alla Nato. Iniziamo... io ero cap ufficio operazione all'epoca, la cosa si è stata in 36 ore 9 voli a testa più o meno abbiamo fatto e l'americano nonostante il parere del membro italiano che ci voleva dare a due c'è dato a uno che non era mai successo che nella prima quali diciamo valutazione uno diventasse a uno e vi spiego perché venivamo già sul 104. Eravamo al gruppo e eravamo parlando il membro americano il capitano Chieruzzi e io. Io non ero d'allarme però. Mentre parlavamo è arrivato uno scrembolo e lui era pronti in cinque minuti quindi normalmente dai cinque ti passavano a pronto in due e poi tiravano lo scrembolo. lì è pastita così. Chieruzzi corre verso l'aeroplano che stava a 50 metri e dopo 90 secondi era in volo. L'americano con l'orologio non ci voleva credere. E' rimasto stordito da questo fatto perché ha capito che il nostro addestramento era era anche perché molte manovre l'aeroplano quando arrivava lo scrembolo lo specialista ce lo metteva in moto metteva in allineamento l'aeroplano a line solo per avere la parte giroscopica non di navigazione e insomma era rimasto ben impressionato. E ha fatto questi questa valutazione io mi ricordo ancora adesso quando ci penso mi vengono le lacrime il giorno dopo c'era all'epoca era maggiore cipriani comandante del gruppo sono entrato ci siamo piacchierati ho detto giulio abbiamo finito e lui mi ha detto sì sì adesso io vado in ferie ecco bravo perché giulio era uno che che si lanciavano e ricordo una volta se il generale fanali chiese a Grazianese di fare un passaggio perché riceveva dei dei ospiti a pratica di mare siamo passati sotto un temporale di nove siamo rimasti in nove un'altra volta si si mandano agli ever qualcuno del qualche spiritoso del dello stato maggiore arriviamo e arriva il tecnico e dice dobbiamo togliere noi amo tip e pylon per arrivare su ai ever proprio sulle isole frisone al nord della germania si dice devo togliere i cosi perché vuoi togliere i pylon le tip le lasciano le pylon andiamo all'ufficio operazioni c'erano tutti fly by perché ogni anno i tedeschi fanno un raduno in onore di rick toffen al contrario di noi che sempre non so baracca e sempre lo stormo loro no girano ogni anno un gruppo di volo fa l'anniversario di rick toffen quell'anno toccava a questo a questa base andiamo e c'erano i tedeschi e tutti come avevamo fatto una grazia nisi bergite e iolandesi tu fly by fly by italian agro team giulio di lo che non siamo che non siamo un agro team ci 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 no facciamo niente insomma c'era il due ragazzi uno claudio nell'altro che poi era stata la battaglia acrobatica e ha avuto un incidente sono morti a la firenze lui è il comandante del gruppo claudio caruso e miani andiamo verso il punto attesa e lui incomincia a fare tonno 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 ho detto eccolo qua arriviamo ci chiamano sul campo facciamo un passaggio la mia la mia coda era dentro allo scarico dell'aeroplano tanto si è fatto passaggio così basso per una cosa incredibile poi ha fatto il solito no insomma altre cose così e alla sera il perché c'era un nipote di francese di di cosa di rick toffen e ci consegna le aguilette e lì abbiamo ci hanno guardato un po storto perché lui non è che ne aveva portata non so quante un numero però quattro dei tedeschi che si erano prenotati sono rimasti senza perché l'avevano dati a noi a me me l'hanno rubata in un albergo a il nostro albergo di milano ce l'avevo sul calcolo non ce l'ho ritrovata sto coso mi faceva molto piacere vabbè e poi che è stata ancora con giulio il giorno due tre giorni dopo eravamo io ero d'allarme sulla palazzina diciamo 24 e c'era la testata 06 e vede sulla 24 c'erano stava andando traini a fare una prova volo di un velivolo che aveva fatto una revisione era tornato per prendere delle cose il giulio cipriani gli ha tolto il parecaduto e ha voluto andare in volo lui noi avevamo in quel momento 45 maestri professori che avevamo sfruttato per fare prendere dei dei diplomi ai nostri sotto ufficiali in modo che potessero fare il concorso per per ufficiali non lo so perché io stavo stavo dormendo a un certo punto mi sono svegliato che sentivo stero plano che dico ma che è sto coso stilo sto rumore lui si è messo a fare dei passaggi in uno di questi passaggi si ha preso si vede molta di molta velocità entrato in delfinamento e ha distrutto la palazzina della 06 distrutta proprio io era appena uscito visto solo la polvere e così mi sono ritrovato che io volevo andare a volevo uscire da grazzanese dopo otto anni perché terra di lavoro non so se sapete il posto dove grazzanese sparanese come si chiamano questi marcianese no quel paese dove ci hanno avuto tutti quei camorristi famosi vabbè caselvo turno sia anche a casa sul turno e allora mi arriva d'estate bar generale bar che era quello che diciamo alla regione mi avrebbe dovuto dall'autorizzazione e dico per favore io vorrei andare allo stato maggiore non perché mi piacesse lo stato maggiore ma volevo un po vivere che a grazzanese proprio era una cosa tremenda e lui mi dice no sei troppo giovane a settembre tre del mio corso della guarda la 46esimo tutti e tre a allo stato maggiore e allora dentro di me ha detto è così è la cosa perché grazzanese era una base dove non voleva venire molta gente e a quel punto mi sono guardati intorno e ho telefonato a parascosso che era l'anno prima era andata a fare l'istruttore a grosseto e ho detto senti poi se gli servono un pilota l'istruttore e il giorno dopo è arrivato maresia mi ricordo facendo finta da un volo fuori sede e mi disse ma sei convinto di venire certo e sono arrivato a grosseto dove mi sono trovato bene anche da grosseto mi sono trovato bene ventesimo era un gruppo eccezionale me ne sono reso conto quando sono rientrato alla l'italia noi peccavamo le pianificazione del volo al ventesimo no al ventesimo dal decollo all'atterraggio era pianificato tutto difatti sono successi degli incidenti ma più che altro incidenti dovuti avarie dell'aeroplano non a errore pilota e niente così è stata la cosa dopo di che mi ho raccontato le mie fare le mie cose grazie 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 grazie